Dal libro di Mormon 1 Nefi 18 E avvenne che essi adorarono il Signore e procedettero assieme a me, e noi lavorammo del legname con singolare fattura, e il Signore mi mostrava di tanto in tanto in che modo dovevo lavorare il legname della nave. Ora io, Nefi, non lavoravo il legname nella maniera appresa dagli uomini, né costruivo la nave alla maniera degli uomini, ma la costruivo nella maniera che il Signore mi aveva mostrato, pertanto non era nella maniera degli uomini. E io, Nefi, andavo spesso sulla montagna e pregavo spesso il Signore, pertanto il Signore mi mostrava grandi cose. E avvenne che dopo che ebbe finito la nave, secondo la parola del Signore, i miei fratelli videro che era buona e che era di bellissima fattura, pertanto si umiliarono di nuovo dinanzi al Signore. E avvenne che la voce del Signore giunse a mio padre, che dovevamo alzarci e scendere nella nave. E avvenne che l'indomani, dopo aver preparato ogni cosa, molta frutta e carne presa nel deserto, miele in abbondanza e provviste, secondo ciò che ci aveva comandato il Signore, scendemmo nella nave con tutto il nostro carico, le nostre sementi, tutto quanto avevamo portato con noi, ciascuno secondo la sua età, scendemmo, pertanto, tutti nella nave con le nostre mogli e i nostri figli. Ed ora mio padre aveva generato due figli nel deserto. Il Maggiore aveva nome Giacobbe e il minore Giuseppe. E avvenne che dopo che fumo tutti scesi nella nave e che avemmo preso con noi le nostre provviste e le cose che c'erano state comandate, ci mettemmo in mare e fumo sospinti innanzi dal vento verso la terra promessa. E dopo essere sospinti innanzi dal vento per lo spazio di molti giorni, ecco i miei fratelli e i figli Ismaele e anche le loro mogli cominciarono a darsi all'allegria, tanto che cominciarono a danzare, a cantare e a parlare con molta volgarità, sì, fino a dimenticare perciò quale potere erano stati portati là, sì, si spinsero fino a una volgarità estrema. E io, Nefi, cominciai a temere grandemente che il Signore si adirasse con noi e che ci colpisse a causa delle nostre iniquità, così da essere inghiottiti nella profondità del mare. Pertanto io, Nefi, presi a parlare loro con molta sobrietà, ma ecco essi si adirarono contro di me dicendo, non vogliamo che il nostro fratello minore sia governatore su di noi. E avvenne che l'Aman e l'Amuere mi presero, mi legarono con delle corde e mi trattarono con molta asprezza. Non di meno il Signore lo permise per poter mostrare il suo potere fino ad adempiere la sua parola che egli aveva pronunciato riguardo ai malvaggi. E avvenne che, dopo che mi ebbero legato al punto che non potevo muovermi, la bussola che era stata preparata dal Signore cessò di funzionare. Pertanto essi non sapevano dove dovessero dirigere la nave, al punto che si alzò una grande burrasca, sì, una grande e terribile tempesta, e fumo sospinti indietro sulle acque per lo spazio di tre giorni, ed essi cominciarono ad essere grandemente imporiti per il timore di annegare nel mare. Non di meno non mi slegarono. E il quarto giorno che eravamo sospinti indietro, la tempesta cominciò ad essere estremamente violenta. E avvenne che stavamo per essere inghiottiti nelle profondità del mare, e dopo essere stati sospinti indietro sulle acque per lo spazio di quattro giorni, i miei fratelli cominciarono a vedere che i giudizi di Dio erano su di loro e che dovevano perire. A meno che non si fosse propentiti della loro iniquità. Pertanto vennero a me e slegarono le corde che avevano ai polsi, ed ecco essi si erano estremamente gonfiati, e le mie caviglie erano pure assai gonfie ed erano molto doloranti. Non di meno io guardavo al mio Dio e lo lodavo per tutto il giorno e non mormorai contro il Signore a causa delle mie afflizioni. Ora mio padre lei aveva detto loro molte cose e anche ai figli Ismaele, ma ecco essi avevano proferito grandi minacce contro chiunque parlasse in mio favore, ed essendo i miei genitori indeboliti per l'età e avendo sofferto molto dolore a causa dei loro figli, erano abbattuti al punto di mettersi a letto ammalati. A causa delle loro afflizioni e del grande dolore e dell'iniquità dei miei fratelli, essi erano stati condotti quasi sul punto di essere portati fuori da questo tempo per incontrare il loro Dio. Sì, i loro capelli grigi stavano per essere posti a giacere giù nella polvere, sì, erano proprio prossimi ad essere gettati con dolore in una tomba d'acqua. E anche Giacobbe e Giuseppe, essendo giovani e avendo bisogno di molte cure, erano dolorati a causa delle afflizioni della loro madre. E neppure mia moglie, con le sue lacrime e le sue preghiere, né i miei figli poterono intenerire il cuore dei miei fratelli affinché mi slegassero. E non vi fu nulla, salvo il potere di Dio, che li minacciava di distruzione, che potè intenerire il loro cuore. Pertanto, quando videro che stavano per essere inghiottiti nelle profondità del mare, si pentirono di quanto avevano fatto, tanto che mi slegarono. E avvenne che, dopo che mi ebbero slegato, ecco, io presi la bussola ed essa funzionò come aveva desiderato. E avvenne che pregai il Signore, e dopo che ebbi pregato, i venti cessarono, la burasca cessò, e ci fu grande calma. E avvenne che io, Nefi, guidai la nave, cosicché navigamo di nuovo verso la terra promessa. E avvenne che, dopo aver navigato per lo spazio di molti giorni, giungemmo alla terra promessa e ci inoltrammo nel paese e piantammo le nostre tende e chiamammo la terra promessa. E avvenne che cominciamo a lavorare la terra e cominciamo a piantare sementi. Si, mettemmo nella terra tutte le sementi che avevamo portato nella terra di Giuseppe. E avvenne che credettero, che crebbero straordinariamente, pertanto, fummo benetti in abbondanza. E avvenne che, mentre viaggiamo nel deserto, trovammo che nella terra promessa c'erano bestie di ogni specie, nelle foreste, sia vacche che buoi, asini e cavalli, capre selvatiche e ogni sorta di animali selvatici adatti all'uso dell'uomo. E trovammo ogni sorta di minerali, sì, d'oro, che d'argento, che di rame. Capitolo 19 E avvenne che il Signore me lo comandò, pertanto, feci delle tavole di metallo per potervi incidere la storia del mio popolo. E sulle tavole che avevo fatto incisi la storia di mio padre e anche i vostri viaggi nel deserto e le profezie di mio padre, e vi incisi pure molte delle mie stesse profezie. E al tempo in cui le feci, non sapevo che mi sarebbe stato comandato dal Signore di fare queste tavole, pertanto la storia di mio padre, la genealogia dei suoi padri e la maggior parte di tutte le nostre vicissitudini nel deserto sono incise su quelle prime tavole di cui ho parlato. Pertanto le cose che accadono prima che facessi queste tavole sono, per la verità, menzionate più particolarmente sulle prime tavole. E dopo che per via di comandamento ebbi fatto queste tavole, io, Neti, ricevetti il comandamento che il Ministero e le profezie, le loro parti più chiare e più preziose, fossero scritte su queste tavole, che le cose che vi sarebbero state scritte fossero conservate per l'istruzione del mio popolo che avrebbe posseduto il paese e anche per altri saggi scopi, scopi che sono noti al Signore. Pertanto io, Neti, feci una storia sulle altre tavole che dà un racconto, ovvero che dà in più il stesso racconto delle guerre, delle contese e delle distruzioni del mio popolo e questo feci e comandai al mio popolo ciò che avrebbe dovuto fare dopo la mia dipartita, che queste tavole avrebbero dovuto essere tramandate da una generazione all'altra, ovvero da un profeta all'altro, fino a ulteriori comandamenti del Signore. E un racconto di come feci queste tavole sarà dato qui appresso. Ed ora, ecco, io procedo secondo ciò che ho detto e faccio questo affinché le cose più sacre possano essere conservate per essere conosciute dal mio popolo. Non di meno, non scrivo nulla su tavole salvo ciò che io ritengo sia sacro. Ed ora, se io erro pure gli antichi, errarono, e non che io voglia scusarmi a causa di altri, ma vorrei scusarmi per la debolezza che è in me secondo la carne. Può chiedere cose che alcuni stimolano essere di grande valore, sia per il corpo che per l'anima, altri le disprezzano e le calpessano sotto i piedi. Sì, gli uomini calpessano sotto i piedi, perfino il Dio stesso di Israele dico che alpessano sotto i piedi, ma direi con altre parole, lo considerano nulla e non danno ascolto alla voce dei suoi consigli. Ed ecco, e gli viene secondo le parole dell'angelo dopo 600 anni dal tempo in cui mio padre lasciò Gerusalemme. E il mondo, a causa della sua iniquità, lo giudicherà essere cosa da nulla. Perciò lo flagelleranno ed egli lo sopporterà. Lo percuoteranno ed egli lo sopporterà. Sì, gli sputeranno addosso ed egli lo sopporterà, a motivo della sua amorevole bontà e della sua longanimità verso i figlioli degli uomini. E' il Dio dei nostri padri che furono condotti fuori d'Egitto, fuori dalla schiavitù e che furono pure preservati da lui nel deserto? Sì, il Dio di Abramo e di Sacco e il Dio di Giacobbe si consegna, secondo le parole dell'angelo, come un uomo nelle mani dei malvaggi, per essere innalzato, secondo le parole di Zenoc, per essere crocifisso, secondo le parole di Neum, e per essere seppellito in un sepolcro, secondo le parole di Zenoc, che egli pronunciò riguardo ai tre giorni di tenebre, che sarebbero stati un segno della sua morte, dato a coloro che avrebbero abitato le isole del mare, e dato più specialmente a coloro che sono del casato Israele. Poiché, così parlò il profeta, il Signore Dio visiterà certamente tutto il casato di Israele in quel giorno, alcuni con la sua voce, a motivo della loro rettitudine, con la loro grande gioia e per la loro salvezza, e altri con i tuoni e i fumi del suo potere, con tempesta, fuoco, fumo e vapori tenebrosi, e con l'aprirsi della terra e con montagne che saranno inalzate. E tutte queste cose dovranno certamente avvenire, dice il profeta Zenoc, e le rocce della terra dovranno spaccarsi, e a causa dei gemiti della terra, molti dei re delle isole del mare, saranno indotti dallo Spirito di Dio a esclamare, e il Dio della natura soffre. E quanto a coloro che sono a Gerusalemme, dice il profeta, essi saranno flagellati da tutti i popoli, perché avranno precipisso il Dio di Israele e distotto da Lui il loro cuore, rigettando i segni, i prodigi, e il potere e la gloria del Dio di Israele. E poiché essi distolgono da Lui il loro cuore, dice il profeta, e hanno disprezzato il Santo Israele, essi saranno errabbondi nella carne, e pegeranno, e diverranno un obbrobrio e una favola, e saranno odiati fra tutti i popoli. Non di meno, dice il profeta, quando verrà il giorno in cui essi non distoglieranno più il loro cuore dal Santo Israele, allora egli si ricorderà delle loro alleanze che fece con i loro padri. Sì, allora si ricorderà delle isole del mare, si radunerò tutti i popoli che sono del casato Israele, dice il Signore, secondo le parole del profeta Zenos dai quattro canti della terra. Sì, e tutta la terra vedrà la salvezza del Signore, dice il profeta, ogni nazione, tribù, lingua e popolo sarà benedetto. E io, Nefi, ho scritto queste cose per poterlo forse persuadere a ricordarsi del Signore e il suo Redentore. Pertanto io parlo a tutto il casato Israele se accadrà che esso otterrà queste cose. Perché, ecco, io provo nello spirito per quelli che stanno a Gerusalemme un travaglio che mi debita sino appunto che tutte le mie giunture sono deboli, poiché se il Signore non fosse stato misericordioso mostrandomi ciò che li riguarda proprio come Ehi fece ai profeti antichi sarei perito io pure. E certamente Ehi mostrò agli antichi profeti tutte le cose che li riguardavano e mostrò pure a molti a molti ciò che riguarda noi. Pertanto è necessario che noi conosciamo ciò che li riguarda per quanto è scritto sulle tavole di bronzo. Ora avvenne che io, Nefi, insegnai queste cose ai miei fratelli e avvenne che lessi loro molte cose che erano incise sulle tavole di bronzo affinché potessero conoscere quanto fece il Signore in altri paesi tra i popoli antichi. E lessi loro molte cose che erano scritte nei libri di Mosè ma per poterli persuadere più completamente a credere nel Signore loro Redentore lessi loro ciò che fu scritto dal profeta Isaia applicai infatti a noi tutte le scritture affinché questo ci potesse essere di profitto e di istruzione. Parlai pertanto loro dicendo udite le parole del profeta che siete un resto del casatro di Israele un ramo che è stato staccato udite le parole del profeta che furono scritte per tutto il casato di Israele e applicatele a voi stessi affinché possiate nutrire speranza così come i vostri fratelli dai quali siete stati staccati perché in questo modo ha scritto il profeta. Capitolo 20 Da ascolto e odi questo o casato di Giacobbe che siete chiamati col nome di Israele e che siete usciti fuori dalle acque di Giuda ovvero fuori dalle acque del battesimo voi che giurate per il nome del Signore e menzionate il Dio di Israele eppure non giurate in sincerità né in rettitudine non di meno essi prendono il loro nome dalla città santa ma non si appoggiano sul Dio di Israele che è il Signore degli eserciti sì il Signore degli eserciti è il suo nome ecco io ho proclamato le cose di prima fin dal principio esse procedettero dalla mia bocca e io le svelai io le svelai d'un tratto e lo feci perché sapevo che tu sei ostinato che il tuo collo è un erbo di ferro è la tua fronte di bronzo e te le ho proclamate proprio fin dal principio te le svelai prima che avessimo e le svelai per tema che tu dicessi il mio idolo le ha fatte e la mia immagine scoppita e la mia immagine scusa le ha ordinate tu hai veduto e udito tutto ciò e non le proclamerai? è che ti ho svelato cose nuove da questo momento sì cose nascoste e tu non le sapevi esse sono create ora e non fin dal principio ed esse ti furono proclamate ancora prima del giorno in cui tu non le ascoltasti per timore che tu non dicessi ecco io le sapevo sì e tu non ascoltasti sì tu non sapesti sì da quel tempo le tue orecchie non erano aperte poiché sapevo che ti saresti condotta molto slealmente e che eri chiamata disobbediente fin dal grembo materno se non di meno per amor del mio nome differirò la mia ira e per la mia gloria mi tratterrò da te per non reciderti poiché ecco io ti ho raffinato ti ho scelto nella fornace dell'afflizione per amor di me stesso sì per amor di me stesso io farò questo poiché non permetterò che il mio nome sia profanato e io non darò la mia gloria all'un altro dammi ascolto o Giacobbe e Israele che io ho chiamato poiché sono io quello io sono il primo e sono anche l'ultimo la mia mano ha pure posto le fondamenta della terra e la mia destra ha spiegato i cieli e io li chiamo ed essi si levano assieme voi tutti adunatevi e udite chi fra loro ha proclamato loro tali cose e il Signore lo ha amato sì egli adempirà la sua parola che egli ha proclamato tramite loro e agirà a piacer suo su Babilonia e il suo braccio cadrà sui caldei dice anche il Signore io il Signore sì io ho parlato sì io l'ho chiamato per proclamare io l'ho fatto venire ed egli farà prosperare la sua impresa accostatevi a me io non ho parlato in segreto fin dall'inizio fin dal tempo in cui fu proclamato io ho parlato e il Signore Dio e il suo spirito mi hanno mandato e così dice il Signore il tuo Redentore il Santo di Israele io l'ho mandato il Signore tuo Dio che ti insegna per il tuo bene che ti guida per la via che dovresti percorrere l'ho fatto oh se tu avessi dato ascolto ai miei comandamenti la tua pace sarebbe allora stata come un fiume e la tua rittitudine come le onde del mare la tua posterità pure sarebbe stata come la rena e la progene delle tue viscere come granelli di sabbia il suo nome non sarebbe stato reciso né distrutto dal mio cospetto uscite da Babilonia fuggite dai caldei con voce di giubbilo proclamatelo banditelo datene voce fino all'estremità della terra dite il Signore ha redento il suo servo Giacobbe ed essi non ebbero sete e gli ricondusse attraverso i deserti fece scaturire per essi acqua dalle rocce spaccò pure la roccia e ne sgorgò acqua e nonostante egli abbia fatto tutto questo ed anche cose più grandi non ve pace per i malvaggi dice il Signore capitolo 21 e ancora date ascolto o voi del casato Israele voi tutti che siete reciti e scacciati a causa della malvagità dei pastori del mio popolo sì voi tutti che siete reciti che siete dispersi ovunque che siete del mio popolo ho casato di Israele ascoltatemi o isole e date ascolto voi popoli da lontano il Signore mi ha chiamato fin dal grembo materno fin dalle viscere di mia madre egli ha menzionato il mio nome e ha reso per la mia bocca come una spada affilata all'ombra della sua mano egli mi ha nascosto e mi ha reso una freccia a guzza mi ha nascosto nella sua fare e mi ha detto tu sei il mio servo o Israele nel quale io sarò glorificato allora io dissi mi sono affaticato in vano in vano e inutilmente ho consumato la mia forza certamente il mio giudizio ecco il Signore è la mia opera col mio Dio e ora dice il Signore che mi formò fin dal grembo materno per essere il suo servo per riportare il Giacobbe sebbene Israele non sia radunato tuttavia sarà glorioso agli occhi del Signore e il mio Dio sarà la mia forza ed egli mi disse è poca cosa che tu sia mio servo per rialzare le tribù le tribù di Giacobbe e per ristabilire i superstiti di Israele io ti darò pure come una luce per i gentili affinché tu possa essere alla mia salvezza fino all'estremità della terra così dice il Signore il Redentore Israele il suo santo a colui che gli uomini disprezzano e colui che le nazioni abborrano al servo dei governanti il Re vedranno e si alzeranno e anche i principi adoreranno a motivo del Signore che è fedele così dice il Signore nel tempo della benevolenza vi ho udito o isole del mare e nel giorno della salvezza vi ho aiutato e vi preserverò e vi darò il mio servo per l'alleanza del popolo per stabilire la terra per far evitare le reità desolate affinché tu possa dire ai prigionieri uscite a coloro che sono assisi nelle tenebre mostratevi essi pascoleranno sulle vie e i loro pascoli saranno in ogni luogo elevato essi non avranno fame né sete né il caldo né il sole li colpirà poiché colui che ha misericordia di loro li condurrà i presso sorgenti d'acqua li guiderà e di tutti i miei monti io farò un sentiero e le mie strade maestre saranno inalzate e allora ho casato Israele ecco questi verranno da lontano ed ecco questi dal settentrione e dall'occidente e questi dalla terra di Finim cantate o cieli e gioisci o terra poiché i piedi di coloro che sono allevante saranno stabiliti e prorompete i canti o montagne poiché essi non saranno mai più castigati poiché il signore ha consolato il suo popolo e avrà misericordia dei suoi afflitti ma ecco Sion ha detto il signore mi ha abbandonata e il mio signore mi ha dimenticato ma egli mostrà che non l'ha fatto poiché può una donna dimenticare il suo figlioletto che poppa così da non avere compassione del figlio del suo grembo si possono dimenticare io però non li dimenticherò ho casato di Israele ecco ti ho inciso sul palmo delle mie mani le tue mura sono continuamente dinanzi a me i tuoi figlioli si affretteranno contro i tuoi distruttori e quelli ti hanno devastata che ti hanno devastata usciranno da te alza gli occhi all'intorno e guarda tutti coloro si radunarono e verranno a te e come io vivo dice il signore certamente tu ti rivestirai di tutti loro come di un ornamento e te ne cingerai come una sposa poiché le tue rovine e i tuoi luoghi desolati e la terra della tua distruzione saranno fin d'ora troppo stretti a causa degli abitanti e quelli che ti divoravano saranno lontano i figlioli che tu avrai dopo aver perduto i primi ti daranno ti diranno ancora all'orecchio questo luogo è troppo ristretto per me dammi altro posto dove posso abitare allora tu dirai in cuor tuo chi mi ha generato costoro visto che avevo perduto i miei figlioli e che sono desolata prigioniera errante qua e là e chi li ha allevati ecco ero stata lasciata sola e questo e questi dove erano così dice il signore dio ecco io alzerò la mano verso i gentili e innalzerò al mio standardo verso il popolo ed essi porteranno i tuoi figli in braccio e le tue figlie saranno portate sulle loro spalle e il re saranno i tuoi balii e le loro regine le tue balie inchineranno dinanzi a te con la faccia a terra e leccheranno la polvere dei tuoi piedi e tu saprai che io sono il signore poichè coloro che sperano in me non proveranno vergogna poichè sarà forse tolta al potente la sua parola o saranno liberati i prigionieri legittimi ma così dice il signore anche i prigionieri del potente saranno portati via e la preda del tiranno sarà liberata poichè io lotterò con colui che lotta con te e io salverò i tuoi figli e a coloro che ti opprimono io darò da mangiare la loro propria carne e si inebbriranno del loro proprio sangue come vin dolce e ogni carne saprà che io il signore sono il tuo salvatore e il tuo redentore e il potente di Giacobbe 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 di Giacobbe